In collaborazione con Prendersi cura, temi e scenari di salute, un programma curato e condotto da Claudio Capitini. Covid e carceri, questo è il tema che affrontiamo oggi a prendersi cura. Sono adeguate le tutele per i detenuti e i lavoratori? Una domanda di fondo tra le tante che porremo a una ricercatrice dell'Associazione Antigone che dagli anni Ottanta si occupa di queste problematiche per i diritti e le garanzie nel sistema penale. Sicurezza della popolazione detenuta e dei lavoratori degli istituti penenziari, un luogo molto complesso da sempre e da sempre ci poniamo anche noi giornalisti qualche volta queste domande. Alti i tassi del sovrappolamento e com'è la situazione adesso che c'è anche il Covid presente? Lo chiediamo allora a Federica Brioschi, che è appunto ricercatrice di Antigone. Ho detto bene Federica? Sì esattamente, buongiorno a tutti, io sono appunto Federica Brioschi e sono appunto una ricercatrice all'Associazione Antigone dove mi occupo di progetti nazionali e internazionali dell'Associazione oltre che essere membro dell'osservatorio sulle condizioni di detenzione di Antigone. Sì, ecco, quindi siccome dice giustamente il carcere è un luogo molto complesso. Sì, ne parliamo adesso, ma permettimi prima una domanda da ricercatrice appunto. Come nasce questo tuo interesse? Allora, io veramente già dai miei studi ero abbastanza orientata al campo dei diritti umani in generale e poi durante i miei studi universitari ho conosciuto l'Associazione Antigone dove ho avuto la possibilità di fare un tirocinio di alcuni mesi e dopodiché sono rimasta a lavorare, ecco, e quindi ho avuto questa grande opportunità di lavorare per Antigone. E come si opera ad Antigone? Allora, l'Associazione ha veramente moltissimi progetti e moltissimi ambiti di intervento. Intanto di sicuro conduciamo tantissimi studi e ricerche su questioni penali e penitenziarie. Poi, come accennavo prima, ci occupiamo del monitoraggio delle carceri, quindi delle condizioni di detenzione. I membri dell'osservatorio di Antigone ogni anno vengono autorizzati dall'amministrazione penitenziaria a fare ingresso negli istituti proprio al fine di monitorare le condizioni di detenzione. E a questo punto, allora, Federica, conviene subito entrare in tema. Cosa sta accadendo dunque nelle carceri in questi mesi che sono sicuramente contrassegnati dalla diffusione pandemica del virus anche in carcere? Allora, in qualche modo il penitenziario ha seguito quelle che sono state le vicende del coronavirus anche all'esterno del carcere. Questo significa che in una prima fase, proprio quella del lockdown nazionale, abbiamo visto un lockdown anche all'interno degli istituti penitenziari. Quindi proprio con chiusure radicali verso l'esterno, per esempio, oltre l'impossibilità di fare attività all'interno degli istituti, anche il divieto di fare i colloqui, per esempio, con i familiari di persona. Cosa che invece, in qualche modo, tutte queste misure molto pesanti sono andate a diventare meno pesanti durante l'estate per poi tornare con la seconda ondata a restringere nuovamente i diritti dei detenuti appunto per tutelare in questo caso il diritto alla salute. Però, diciamo, con la suddivisione a colori dell'Italia, per esempio i colloqui nelle zone fino a poco tempo fa gialle, era possibile spostarsi all'interno della regione per fare i colloqui. Senti, ci sono dati sui contagi o su altre criticità connesse direttamente o anche indirettamente all'emergenza? Allora, dati sui contagi ci sono. Inizialmente, nella prima fase, erano stati forniti soprattutto dal garante, al garante delle persone private e della libertà personale. Adesso, da novembre, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria li pubblica fondamentalmente settimanalmente e che è una prova di trasparenza di cui effettivamente noi siamo molto contenti perché non è scontato e in altri paesi europei abbiamo visto che non è così. I contagi sono stati abbastanza contenuti nella prima fase, hanno raggiunto il picco di oltre mille contagiati a novembre, dopodiché a gennaio sono tornati intorno ai 530 circa e ora sono risaliti, siamo a 683 a ieri. Caspita, senti Federica, la situazione delle vaccinazioni negli istituti qual è? Anche sulla situazione delle vaccinazioni dobbiamo dire che le istituzioni hanno raccolto quelle che sono state le richieste sia della società civile che anche di altre istituzioni e di organizzazioni internazionali oltretutto che chiedevano la vaccinazione dei detenuti in quanto popolazione che vive comunque in un ambiente ristretto e quindi per questo motivo vulnerabile. Questa chiamata è stata raccolta e in alcune regioni, non in tutte perché appunto i piani vaccinali sono regionali, sono partite le vaccinazioni e al 29 marzo erano 4500 i detenuti vaccinati. Ecco, a fronte di questi dati dobbiamo però dire il dato del cosiddetto sovraffolamento, com'è il livello ad oggi e ti chiedo se ci sono norme che hanno le finalità di ridurre lo sovraffolamento negli istituti penitenziari e se vengono rispettate. Allora, il sovraffollamento in questo momento è ancora presente nel nostro sistema penitenziario. Secondo i dati ufficiali si tratta del 106% circa, secondo i dati di febbraio, fine febbraio. Tuttavia sappiamo anche che ci sono alcune sezioni all'interno degli istituti penitenziari, alcuni posti che non sono disponibili, che magari sono all'interno del conteggio perché solo temporaneamente non sono disponibili. E quindi diciamo che più o meno il calcolo è del 115% del sovraffollamento, questo è il calcolo non ufficiale ma comunque abbastanza attendibile. Rispetto all'anno scorso i detenuti sono diminuiti considerevolmente, questa diminuzione è avvenuta soprattutto nella prima fase del lockdown e diciamo che la diminuzione è data soltanto in parte dalle norme che sono state introdotte al fine di ridurre la popolazione detenuta perché nella prima fase quello che abbiamo visto sono stati soprattutto meno ingressi, quindi meno reati, meno arresti e anche i procuratori hanno dato in qualche modo meno misure cautelari in carcere e magari più detenzione domiciliare per evitare proprio l'ingresso di persone all'interno degli istituti. Questo ovviamente poi fisiologicamente, visto che entrano meno persone, ma quelle che comunque finiscono, disconiscono, allora abbiamo visto comunque una riduzione. Ci sono state poi alcune norme introdotte, come per esempio un leggero ampliamento della detenzione domiciliare o delle licenze premio, dei permessi premio, però non mi sento di dire che questi siano state la parte più consistente di questa riduzione della popolazione detenuta. Chiaro. L'ultima parte della nostra trasmissione deve riguardare anche i lavoratori. Parliamo della polizia penitenziaria. Quali rischi, quali le criticità per questi lavoratori? Allora, diciamo che i lavoratori, appunto, chi lavora all'interno del carcere sono certo in larga parte la polizia penitenziaria, che è numericamente più presente. Ci sono però altre professionalità, quali i funzionari giuridico-pedagogici, i cosiddetti educatori, i mediatori culturali, gli amministrativi, la direzione. Insomma, per i lavoratori il carcere è, come dire, si pensa che sia un luogo chiuso, però in realtà è un luogo permeabile perché c'è chi ci entra dall'esterno e si è visto, insomma, che se all'interno di una sezione c'è qualche detenuto che risulta positivo al coronavirus, rischia poi dopo di trasmettere il virus a tutta la sezione. Di conseguenza anche i lavoratori sono a rischio e chi può portarlo dentro questo virus sono sia i lavoratori che i detenuti, magari che vengono dall'esterno. Però Federica, perdonami, credo che saranno messe in pratica anche delle misure precauzionali, no? Certamente, sì, sì. Diciamo che da quello che siamo riusciti a monitorare, l'amministrazione penitenziaria, soprattutto nella prima fase, ha adattato quelle che sono state le direttive dell'Istituto Superiore di Sanità all'ambiente penitenziario, tramite diverse circolari note che hanno cercato di dare delle regole ben precise. Intanto cruciale è stato il coordinamento con le aziende sanitarie locali, dopodiché altri provvedimenti, posso fare degli esempi, sono per esempio la quarantena all'ingresso per i detenuti, che è una quarantena di 15 giorni oppure di 10 nel momento in cui hanno il tampone e poi ovviamente dispositivi di protezione individuale, sia per i detenuti che per il personale. Queste sono le principali, insomma. Allora, noi ringraziamo Federica Brioschi, Associazione Antigone, non solo per la chiarezza con cui ha esposto dei dati non proprio facilissimi, ma che si è curata di perlomeno procurarceli e credo che siano molto aggiornati. Grazie dunque Federica e in bocca al lupo per il tuo lavoro. Grazie, a presto. Grazie a voi. Noi ci salutiamo a questo punto. L'appuntamento, come sempre, è tra un paio d'ore alle 18.30 per l'altra fascia dedicata a My Generation. A presto. Grazie. 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 Grazie.